ciao a tutti ragazzi come va come sempre che agonista benvenuti in un nuovo video di pokémon go e oggi come a titolo parliamo del community day di taddi ursa un community day veramente strano rispetto al solito che può gasare un po di gente ma prima di tutto ti ricordo che abbiamo un gruppo telegram con più di 400 persone in cui puoi fare tutte le domande che vuoi far ride con noi flexer toyshine e trovare nuovi amici tutto questo lo puoi fare anche sul disco dove abbiamo tantissimi canali discussioni più ampia che su pokémon giochi pokémon e tutto quanto e ovviamente ti ricordo anche che ho tre social dove puoi andarmi a seguire scrivermi in dm se hai delle domande e porto contenuti e informazioni più veloci che nei video quindi vai a dare un'occhiata detto questo ragazzi ricordo che sono in live quasi tutte le sere quindi insomma mi raccomando guardate e tra poco parleremo anche del giveaway tanto che siamo arrivati finalmente a 1000 iscritti ci sarà un giveaway di carte state tranquilli che arriva la prossima settimana so che non vi sto portando le lotte go non vi preoccupate è una delle cose che voglio tornare a fare più velocemente possibile quindi faccio uno shout out mandatemi lotte raga se avete dei set buoni che andiamo a portarle in live detto questo andiamo ad analizzare il community day allora un community day atipico perché ci sarà un'evoluzione nuova che ha l'evoluzione di iswi che potrebbe essere interessante non si sa ancora niente del moveset quindi per chi ha detto che come today non è utile ma vedremo allora ragazzi innanzitutto lo spawn è dalle 2 alle 5 del 12 novembre quindi state all'occhio quel giorno cercate di catturare un po non ha uno shiny super amato però ha uno shiny interessante lo shiny rate sarà come al solito di 1 su 25 e quindi insomma il pokémon a mio parere è interessante io sicuramente giocherò questo community day andiamo a guardare un attimo il legacy apprende con chi si evolve allora si evolve in ursa luna ok se lo evolvete entro le sette tra l'altro questo ursa luna potrà prendere la mossa forze equina che toglie 100 di danno per il pvp e 110 per il pv cioè contro le palestre contro i raid e tutto quanto inoltre hanno aggiunto una feature che si chiama luna piena cioè che dalle due di sabato 12 novembre fino al 13 novembre alle sei di mattina sarà possibile evolverete di ursa in ursa luna quindi al di fuori dell'orario del community day se lo volete entro le sette apprende anche la mossa legacy da quello che ho capito altrimenti no correggetemi ovviamente se sbaglio nei commenti penso che finché potete evolverlo ci sarà anche la figuretta col punto di domanda di ursa luna invece che della sua evoluzione comune ok che sarebbe ovviamente ursaring ora andiamo a parlare invece dei bonus dell'evento ve li lascio qui come al solito così intanto potete guardarveli comunque polvere di stelle triplicata catturando pokemon sappiamo quanto è utile questo bonus quindi io consiglio sempre di attivare il pezzo stella se giocate un tot per aumentare la vostra polvere e flexare soprattutto se siete nuovi possibilità raddoppiata di caramelle xl quindi molto buono raga ma soprattutto caramelle normali raddoppiate da cattura che amo un bonus super utile soprattutto se non avete tanto tempo come me di giocare la roma e i moduli esca varranno tre ore dalla loro attivazione quindi super buono se siete con amici a giocare vi attivate un esca a testa e camminate avanti indietro top possibilità di effettuare uno scambio speciale in più quindi un massimo di due scambi speciali molto buono questo bonus da utilizzare e gli scambi effettuati infatti costeranno il 50 per cento di polvere in meno ricordo ovviamente che se scattate una foto al vostro compagno comparirà un test di usa speciali solo per voi che potrete flexare vostri amici nel caso ovviamente sarà shiny o avrà delle buone statistiche infatti di buone statistiche adesso ci andiamo a parlare raga che rank devo cercare per avere un urso ring o un urso luna buono allora per la lega mega cerchiamo 1 0 14 15 per la lega ultra cerchiamo uno 0 15 13 per la lega master ovviamente cerchiamo al massimo a mi sento di sconsigliarvelo perché non arriva a pl molto buoni per competere in quella lega invece tag di ursa raga potrebbe essere un personaggio valido visto che ha musset veramente interessante per la coppa piccoli e cerchiamo uno 0 15 15 che le mag evoluzioni utili per questo community dei essendo un po come tipo normale le tre evoluzioni che per il momento sono sbloccabili sono maga pidgeot maga kangaskhan e megalo panni ditemi anche voi se vi interessa se volete una guida qui c'è per le mag evoluzioni che vi permettono di prendere più caramelle se ce l'avete attive ovviamente ci sarà anche un ride bonus 4 stelle con la presenza di ursa ring dopo la fine degli spawn che bonus avrà praticamente sarà innanzitutto in presenza ma soprattutto se il bonus viene effettuato e vinto con successo ci sarà uno spondita di ursa nel raggio di 300 metri dalla palestra come se il community dei proseguisse quindi con la possibilità di trovare le forme cromatiche a 1 su 25 jack quindi io ci penserai raga non sappiamo ancora niente di questo pokémon probabilmente raga ve lo dico già non sarà un top player per il pvp però chi lo sa chi lo sa molti dicevano molti facevano invece poi magari anche warrain che prima nessuno si guardava gli hanno fatto il community dei adesso era un aeroplano tanto che l'hanno dovuto debba fare un botto io raga spero che il video vi sia stato utile spero di vedervi presto in live vi saluto un abbraccione da agonista balali io